ciao avete giocato contro una banda di cani una banda di cani ma cosa cutrone cutrone gioca nel como nel como gioca cutrone lo sapevi io non lo sapevo nel como gioca cutrone e questi si vogliono salvare con cutrone ma siamo seri siamo seri adesso le avete fatte pure gasare come delle come chissà adesso stasettimana a che baracca cutrone siete dei cani cani una squadra che già retrocessa prima di iniziare ma che squadra è questa ma ragazzi ragazzi nulla da dire a parte gli scherzi bene bene la juve bene bene la juve ma lasciamo stare che il como è una squadra già retrocessa ok lasciamo stare che ma la juve bene bene la juve bene 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 quel turam li è forte 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 quelli il disli non è male 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 se prende convinzione e continuità la vice solito cari che si mangia mille gol prende due pali si va bene però è sempre comunque un buon attaccante e la juve e poi mancava luiz adesso arriva copminers e poi prenderanno anche un difensore la juve non è mica messa male male perché il tiago motta il tiago motta li fa giocare ragazzi c'è c'è poco da stare io sono onesto sono onesto c'è stasera juve la ripeto lasciamo stare che il como è inguardabile la juve però ha giocato bene si è vista una juve totalmente diversa una juve nuova un tiago motta che ha dato animo a questa squadra un gioco alla fine i giocatori un po ci sono adesso la merda che poter peggio di allegri era impossibile fare poi ho appena iniziato il campionato state calmi gobbi state calmi state calmi state calmi state calmi che avete giocato in casa con la squadra più scarsa della serie a che sia ben chiaro questo è però però bisogna dare atto che la juve a me è piaciuta c'è poco da fare e la juve se prende quei due tre giocatorini allora dopo c'è da ridere quest'anno il campionato si fa più interessante più interessante e questa cosa mi fa anche un po piacere perché sapete gobbi l'anno scorso a febbraio eravate già meno 15 meno 12 una roba brutta cioè siete arrivati a meno 20 21 quindi state calmi state calmi che vi voglio vedere anche contro una squadra decente perché questi sono inguardabili c'è anche verdi hanno messo su verdi gioca ancora verdi questi si vogliono salvare con verdi cutrone chi è l'altra punta che giocava la cagliari che è entrato adesso che non si può vedere come si chiama è una roba imbarazzante il como il como è la vergogna della serie a e per fortuna che c'era gente che la metteva settima ottava non il como va in serie b senza neanche passare dal via proprio serie b schietta netta mi ci gioco quello che volete una squadra vecchia brutta ma ma che golda niga se questi hanno un botto di soldi si presentano con cutrone golda niga verdi poi chi c'hanno roba che non si può vedere gobbi ridete poco ridete poco però buona partita ciao belli